Eccolo Iparoti al centro, palla rinviata ancora, vediamo chi interviene, Esposito, Esposito cerca di dare a un giocatore poi e va a tirare, c'è il gol! E c'è il gol! C'è il gol! Un gol di Galeano all'89 della partita regala tre punti importanti al Real Sant'Agata nei confronti della Promosport. Tre punti che consentono alla squadra di casa di salire a 14 punti in classifica relegando invece gli ospiti a 8 punti al penultimo posto della classifica. Una partita che la squadra di Mister Lio pensava di poter contare, di portare in porto sullo 0-0, quindi di tornare imbattuto da Sant'Agata e con questo punticino quantomeno alimentare la propria classifica. Così non è stato, rimane la mare in bocca per un risultato che davvero poteva essere ma che proprio il gol all'ultimo minuto ha consentito alla squadra di casa di vincere l'incontro. Un Real Sant'Agata che ultimamente era un po' incerto nelle proprie prestazioni, vittorie in casa linghe, sconfitte esterne e quindi adesso continuando ancora a prendere questi tre punti risale in classifica. Invece la Promosport non dà seguito alla vittoria di domenica scorsa contro l'Acri e rimane fermo ad 8 punti. Grazie. Grazie.